ciao bellezze buona serata allora il video di oggi è una video review molto veloce per mostrarvi un oggetto che in questo periodo sta spopolando tra le blogger e comunque sia sta spopolando tra chi ha i capelli abbastanza crespi e sto parlando di questa vedete è la famosa spazzola lisciante che è diventato l'oggetto del desiderio in questo periodo di tutte le persone che hanno problemi di capelli crespi e che voli vorrebbero invece belli lisci e disciplinati allora io devo essere sincera questa spazzola non mi attraeva tantissimo infatti quella che vedete non l'ho acquistata è semplicemente di passaggio tra le mie mani perché di mia sorella la quale avendo capelli lisci come i miei ha pensato bene di di donarla o di venderla a qualcuno che invece ne ha necessariamente più bisogno allora pro incontro di questa spazzola io l'ho provata l'ho testata su di me l'ho accesa arriva fino a 230 240 gradi a questo è lo schermo lei led scusatemi e qua c'è il tastino per aumentare per diminuire la temperatura questo è il tasto di attenzione 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 a che di accensione è fatto abbastanza bene materiale abbastanza rigido ovviamente tutta in plastica anche i dentini vedete in questo modo dentini non troppo rigidi quindi dovrebbe essere abbastanza morbida e questa parte rosa che vedete è in metallo a praticamente simula le setole di una spazzola che in realtà sono rigide perché ovviamente è la parte rivestita in ceramica e ha questi puntini neri su che vedete che sono morbidi infatti io ci sto giocherellando che servono per essere poggiati direttamente sulla testa e lisciare il problema qual è il problema è che se si hanno capelli ricci crespi ondulati funziona benissimo perché ad una temperatura di circa 200 anche 200 gradi va benissimo su capelli come i miei o come quelli di mia sorella in realtà non vale una cippa semplicemente perché il capello già liscio uno cerca quantomeno di pettinarlo di darsi la pettinata non va bene perché gli assottiglia molto soprattutto non da vedete quanto è largo tra un e l'altro c'è il mio capello scivola tranquillamente all'interno senza subire nessun passaggio della del calore di questa bellissima spazzola quindi diciamo che ovviamente poi sul capello a me tira i capelli ecco e quindi a dir poco insufficiente per quanto riguarda il mio giudizio non è niente di spettacolare però dovrebbe funzionare per chi ha i capelli crespi e ricci quindi io non la consiglio a chi ha i capelli lisci ma la consiglio a chi ha i capelli ricci e crespi ragazze questa spazzola è praticamente nuova tra l'altro se siete interessate potete contattarmi perché è stata usata una volta da mia sorella e una volta da me quindi la metto anche in vendita se siete interessate contattatemi privatamente perché faccio un prezzo proprio perché a me non serve e neanche a mia sorella quindi vi faccio un buon prezzo se siete interessate chiamatemi contattatemi che ci metteremo sicuramente d'accordo io per il momento vi saluto vi do un grosso bacio chiamatemi per la spazzola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti